Qui a Cortina Incontra per parlare di Iran e comunque anche della situazione in Medio Oriente. Partiamo da una domanda di attualità. L'impegno italiano in Afghanistan a che punto è? Beh, appunto che deve continuare. Nel senso che siamo all'interno di un conflitto, di fatto. Questo conflitto non sarà di facile risoluzione e comunque non sarà di breve risoluzione. Ho l'impressione che, soprattutto per l'Europa e quindi anche per l'Italia, una sconfitta in Afghanistan sarebbe deleteria. Lo sarebbe perché fomenterebbe ulteriore radicalismo e potrebbe essere esibito come un punto di forza da parte dei movimenti radicali islamisti che utilizzano la violenza per diffondere il loro messaggio e renderebbe ancora più difficile poi l'allontanare le nostre comunità islamiche dalla fascinazione di questo tipo di messaggio. Noi sappiamo che il radicalismo islamista in Occidente si sconfigge annichilendo le fonti di questo radicalismo nelle terre di origini di questa comunità. Non c'era traccia di radicalismo musulmano prima che questo esistesse nelle terre da cui queste comunità di migranti provengono. Quindi sarebbe deleterio e sarebbe deleterio chiaramente per la Nato perché lei capisce bene che un'alleanza occidentale che non riesce ad avere ragione di una guerriglia sicuramente ben organizzata, radicata, ma non stiamo parlando dell'armata rossa durante la guerra fredda, sarebbe un disastro per l'alleanza. Venendo invece all'Iran, sono molti gli stati che hanno un armamento nucleare. Perché l'Iran fa così paura? Diciamo che innanzitutto perché non viene creduta la sua buona fede. L'Iran è sospettato di aver iniziato a sviluppare un programma nucleare molti anni fa, un programma nucleare militare. Ha confessato di aver avuto questa pratica nel passato, ma poi alla fine è sempre stato evasivo nel tirare fuori tutte le carte di quanto è stato prodotto durante quegli anni. Ha fatto un outing, per usare una terminologia che si utilizza per altre cose, a metà e ha continuato a tergiversare. Quindi la comunità internazionale non si fida della parola di questo governo, di questo regime. Questo regime alimenta una serie di movimenti radicali all'interno del Medio Oriente che sono oggettivamente movimenti pericolosi per la nostra sicurezza. ha una politica a livello declamatorio quantomeno, molto forte in termini di negazione del diritto all'esistenza di Israele. Questo mix non è un mix incoraggiante. Il fatto poi che dopo le ultime elezioni il regime abbia provveduto a scippare sostanzialmente del voto alla propria popolazione aggiunge un elemento di preoccupazione. Se dovessi dire in sintesi è come poi fidati di un regime che non esita a mentire al suo popolo come può pensare che non menta anche a te. Abbiamo parlato delle elezioni. Secondo lei, dopo tutto quello che è successo a giugno, quindi con il voto, la repressione e tutto il resto, che atteggiamento dovrebbe tenere la comunità internazionale nei confronti di Ahmadinejad? Allora, qui bisogna distinguere, secondo me, tra le posizioni ufficiali dei governi che prendono atto di quello che è successo, il che non significa che ne riconoscano la trasparenza e la legittimità del processo democratico, ma prendono atto che a Teheran c'è qualcuno che governa e noi con l'Iran dobbiamo confrontarci in ogni caso, e con quello che invece può essere sia il circuito politico non governativo, sia quello che può essere la società civile. Dico questo perché il regime è uscito comunque indebolito, nel senso che quel tipo di legittimazione è una situazione composita, che si fondava su due elementi opposti, da un lato il suffragio popolare, quindi un elemento che afferiva, che rimandava la democrazia, anche se non una democrazia competitiva, anche se non una democrazia liberale, quindi una forma comunque di sostegno dal basso. E dall'altra parte invece il principio di legittimità fondato sull'autorevolezza, diciamo sulla sapienza del giurisperito religioso, che era un equilibrio altamente stabile fin dall'inizio, che è stato tenuto in equilibrio in realtà solo attraverso la figura carismatica di Khomeini, è saltato completamente ed è saltato a svantaggio di una progressiva liberalizzazione e a vantaggio invece di una svolta autoritaria. Questo fatto è un fatto che a mio avviso riduce ulteriormente la base di sostegno del regime, la radicalizzazione sta producendo una qualche frattura all'interno del regime stesso, credo che qui l'errore da evitare sia uno, piuttosto che prendere partito per una fazione più estremista o meno estremista, e questo è il rischio grave, quindi di finire per legittimare magari i conservatori religiosi perché sono un po' meno peggio dei radicali militaristi. Qui si tratta di tenere presente che questa frattura probabilmente sta producendo un danno forte al regime che nel lungo periodo potrebbe manifestare i primi sintomi di una caduta, quindi prepararsi per quello che succede dopo in qualche modo. L'errore a mio avviso più grave sarebbe prendere partito per una fazione al potere, per questo allungherebbe l'agonia del regime e alla fine finirebbe per deludere la società civile, invece noi dobbiamo pensare di sostenere questa società. E chiaramente quando ci sono manifestazioni intollerabili come la presa di ostaggi sostanzialmente dopo 30 anni della rivoluzione, che ancora una volta viene affettuata dal regime processando i propri cittadini, ma anche gli occidentali che hanno documentato le manifestazioni di dissenso, quando ci sono queste cose far capire all'Iran che questa cosa è inaccettabile, non può essere accettata oggi, non sarà accettata tra vent'anni, non sarà mai accettabile. Noi non siamo in grado magari di modificare l'evento, ma siamo in grado di dire che questa cosa per noi non andrà mai bene, non è che cambieremo idea solo perché è successo. Grazie a tutti.